Natale di Roma colossale e coloratissimo nonostante la pandemia, caratterizzato per la ricchezza degli eventi offerti con grande supporto di reti e tecnologie, tra videomapping, maratoni diversi, video postati sui social. I festeggiamenti erano stati anticipati in uno speciale streaming dal Museo Nazionale Etrusco in collaborazione con il Gruppo Storico Romano. Un'associazione di rievocazione storica e archeologia ricostruttiva ambientata nel primo secolo dopo Cristo che si ripropone di far conoscere sia in Italia che all'estero gli usi e costumi dei Romani antichi. Realizza circa 200 eventi nel corso dell'anno. Abbiamo trovato l'opportunità di utilizzare uno spazio chiuso come un museo e il suo straordinario cortile per realizzare un evento virtuale in sicurezza. Ed è online il nuovo video del Mibact con lo spettacolo del fenomeno del cerchio di luce al Pantheon che avveniva sempre il 21 aprile alle ore 12 solari penetrando dall'Oculus della cupola. Uno dei primi effetti speciali dell'epoca e della storia perché faceva vedere l'imperatore entrare nel tempio circonfuso di luce. E poi una maratona in versi romaneschi con tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Il video di Romezona ha invece raccontato moda, costume e cinema influenzati dal mito romano. Infine una visita guidata straordinaria a cura della sovrintendenza capitolina dei tratti dei camminamenti riqualificati delle mura aureliane che erano diventati studi d'artista e cenacoli culturali. Un elemento caratteristico del sempre sorprendente paesaggio urbano della capitale.